Corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia, due sedie a Parma, via Nullo 2 e piazzale caduti del lavoro 3, www.autoscuolavolturno.it Grazie Grazie Autoscuolavolturno Patenti di tutte le categorie, corsi CQC, corsi recupero punti, rinnovo patenti, patentino per ciclomotori, patenti nautiche a motore entro le 12 miglia, Grazie Vediamo come sono i quinte di partenza Grazie Grazie Per il numero 4, Valeria Martesone, numero 14, CQC, avrò Il numero 9, Iania Zanoni, numero 20, Pick the Corry, numero 7, Laoria Corbani Per acqua e sottolineo perdite, con il numero 4, Chiara Consolini, numero 13, Fonkerent Il numero 12, Black Con il numero 11, CQC, e con il numero 5, Dario Morini 5, Dario Morini Ugut 5, Nello Chiara Alot T Tuesday Grazie a tutti 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 Puntino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti